Il Consiglio europeo discute il rapporto di Enrico Letta sul mercato unico. Energia, telecomunicazioni e servizi finanziari, i settori da includere. Il G7 di Capri accelera sulle difese aeree per l'Ucraina. Tajani, Kiev non deve perdere la guerra. Alleanza Verdi e Sinistra ha candidato Ilaria Salis alle europee. Se eletta dovrebbe essere scarcerata grazie all'immunità parlamentare. Germania, il leader in Turinja del partito di estrema destra FD, Björn Hockey, ha processo per aver utilizzato uno slogan delle truppe d'assalto naziste. Due cittadini con doppia nazionalità tedesca e russa sono stati arrestati in Germania con l'accusa di spionaggio. La procura federale di Karlsruhe ha dichiarato che i due, identificati solo come Dieter S e Alexander J, sono stati fermati mercoledì in Baviera. Sono accusati di aver cospirato per la Russia, di aver preparato esplosivi e di aver fatto sopralluoghi di potenziali obiettivi per fermare gli aiuti all'Ucraina. Unsere Sicherheitsbehörden hanno mögliche Sprengstoffanschläge, die unsere militärische Hilfe für die Ukraine betreffen und unterminieren sollten, verhindert. Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen. Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. La Germania è il secondo fornitore di armi all'Ucraina dopo gli Stati Uniti da quando la Russia ha invaso due anni fa. Gli Stati Uniti hanno un'ampia presenza militare in Germania e alcune basi erano tra gli obiettivi dei due sospetti. Il ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann ha elogiato quello che ha definito un successo investigativo nella lotta contro la rete di spionaggio e sabotaggio di Putin. Un giudice ha ordinato che uno dei due sospetti di teresse che ha anche combattuto nel Donbass sia tenuto in custodia in attesa di un'eventuale incriminazione. L'altro, Alexander Jay, deve ancora comparire in tribunale. I ministri degli esteri del G7 giovedì a Capri hanno spinto per l'invio di difesa aerea a Kiev. Per l'Ucraina è questione di vita o di morte, ha detto il ministro Kuleba, ospite della riunione. Dunque si ipotizza di usare i beni russi congelati in Europa dall'invasione per pagare le batterie di Patriot e altri sistemi antiaerei. Il principale è un po' semplice, che è che ci sono stati russi in l'Unione, in Europa e in più, e dovremmo trovare mani di usare questi stati per aiutare l'Ucraina in sua difesa di questa invasione illegale russi. È molto evidente per me che un giorno che la Russia dovrà pagare le riparazioni per questa invasione illegale, e quindi dovremmo usare questi stati in l'unione. Ma è importante che cerchiamo di avere un'accordo tra gli allievi sull'interno di questo modo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che bisogna impedire la sconfitta di chi difende il proprio paese. Dobbiamo prendere i nostri sistemi antimissile e darli all'Ucraina, ha detto invece l'altro rappresentante, Uwe, Joseph Borrell. L'Unione Europea deve fare qualcosa al più presto per continuare o tornare a competere con Cina e Stati Uniti, ma i suoi stati membri non sembrano essere d'accordo su che cosa esattamente. Nell'ultimo Consiglio europeo, i capi di Stato e di governo dei 27 hanno discusso per un'intera giornata un rapporto sul mercato unico presentato dall'ex presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta. Il rapporto suggerisce di estendere la cooperazione ai settori dei servizi finanziari, dell'energia e delle telecomunicazioni, promuovere l'innovazione è un punto chiave, ma il grosso problema resta come reperire il denaro necessario a finanziare la transizione ecologica e digitale. Un'idea sarebbe le emissioni di debito comune da parte dell'Unione, alcuni stati sembrano favorevoli, altri molto contrari. Per Letta, in ogni caso, gli investimenti pubblici devono aumentare. oggi, tutti, tutti i 27, e io penso che l'entera opinione pubblica a livello europeo, sa che noi abbiamo nuovi bisogni che dobbiamo finanziare con dell'argento che non può essere il 1% del budget europeo, il 1% del GDP, che è il budget europeo normale. Questo dibattito è il primo passo di un percorso che prevede la definizione di un'agenda strategica europea e la presentazione, dopo le elezioni, di un altro rapporto sulla competitività dell'Unione da parte di un altro. Ex Presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'Unione Europea sta valutando la possibilità di estendere le sanzioni contro i droni e i missili iraniani dopo gli attacchi a Israele dello scorso fine settimana. Questo è il principale risultato di una riunione d'emergenza dei ministri degli affari esteri dell'Unione per affrontare quella che l'alto rappresentante dell'UE, Joseph Borrell, ha descritto come un'importante escalation. L'UE ha già adottato misure restrittive contro i droni iraniani. L'obiettivo è ora quello di estenderle ai missili e di evitare che gli alleati di Teheran attacchino dal confine libanese, dallo Yemen o dall'Iraq, come è successo questo fine settimana. Ma ulteriori sanzioni potrebbero non cambiare nulla. Si è discusso anche della possibilità di inquadrare la guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica, ma questa sarebbe una mossa difficile, in quanto l'apparato non è stato ancora associato a un atto di terrorismo in nessuno degli stati membri dell'Unione. Ilaria Sales è stata candidata alle elezioni europee da Alleanza Verdi e Sinistra. L'insegnante milanese è al centro dell'attenzione da febbraio, da quando è comparsa a processo a Budapest incatenata a mani e piedi. Sales è in carcere da un anno in Ungheria per aver aggredito dei militanti neonazisti e rischia fino a 24 anni di reclusione. Seleta a giugno, tuttavia, godrà dell'immunità da parlamentare europea e dovrebbe essere rilasciata, ma non è chiaro come si comporterebbero in caso i giudici, ha detto l'avvocato ungherese di Sales. Il leader in turinja del partito di estrema destra alternativa per la Germania, Björn Hocke, è comparso giovedì al tribunale di Halle con l'accusa di aver utilizzato simboli di organizzazioni incostituzionali, un reato punibile con una multa o una pena detentiva fino a tre anni. Il reato sarebbe stato commesso quando nel 2021 ha concluso un discorso con le parole Tutto per la Germania, noto slogan delle SA, le truppe d'assalto naziste. Hoke insiste sul fatto che non sapeva si trattasse di uno slogan nazista e ha affermato che è un modo di dire quotidiano. La sezione dell'FD in Turinja due anni fa è stata apposta sotto sorveglianza ufficiale da parte dei servizi segreti nazionali come gruppo di estrema destra comprovato. Le tue versuche di AFD e le politiche als rechtsextreme und völkisch zu classifizieren keine besondere behinderung für den aufstieg der AFD darstellt. Insofern gehe ich auch davon aus dass der jetzige prozess eher in dem Sinne enden wird Höke ist das Opfer Deutschland ist ein Land in dem die Meinungsfreiheit Circa 600 manifestanti si sono radunati fuori dal tribunale con striscioni che recitavano frasi come Björn Höke è un nazista e Stop AFD L'ultima udienza è prevista per il 14 maggio Höke deve affrontare anche un secondo processo con l'accusa di incitamento all'odio legata a un post del 2022 su Telegram Dopo le temperature record oltre i 30 gradi dello scorso weekend un'ondata di maltempo si è abbattuta su gran parte dei paesi europei Da ieri la neve è tornata a cadere in alcune zone dell'Austria dove si prevede che il freddo continuerà ancora per qualche giorno Diversi incidenti sono stati segnalati lungo il tratto di autostrada che attraversa la Carinzia Neve anche in Croazia dove però non sono state segnalate interruzioni del traffico Dopo due giorni di caldo anomalo rispetto alla stagione le temperature sono scese di quasi 20 gradi in Romania Su molte parti del paese si sono abbattute le piogge torrenziali mentre ha nevicato nelle aree montuose Vediamo che schimbiamo gli ecosistemi e le situazioni climatiche e le planete Allora abbiamo bisogno La neve ha imbiancato anche alcune zone dei Balcani dopo una settimana di caldo estivo Le temperature sono scese drasticamente in tutta la regione a causa di forti piogge e raffiche di vento Mercoledì il Parlamento svedese ha approvato una legge che abbassa da 18 a 16 anni l'età necessaria per cambiare legalmente il proprio genere inoltre non sarà più richiesta una diagnosi di disforia di genere termine medico utilizzato per definire il disagio psicologico sperimentato da coloro la cui identità di genere non corrisponde a quella del proprio sesso i minori di 18 anni dovranno comunque ottenere l'approvazione di un tutore di un medico e dell'ente nazionale per la salute e il benessere